uno dei nostri cari teosofia e nuova psicologia annibesan edizione alaia 1946 fermandosi un poco su questa idea si capisce facilmente che quando la morte colpisce uno dei nostri cari noi non restiamo separati da lui per distanza di spazio ma solo per limitazione di potere ricettivo cioè non possiamo più vibrare col meccanismo della nostra coscienza in risposta alle vibrazioni della materia appartenente ai mondi in cui il dipartito ora si trova commento chi scrive crede che la medianità sia comparsa in maniera significativa nella società umana dalle sorelle fox ad alan kardec alla teosofia della medium elena blavatsky alle grandi medianità successive ognuna delle quali ha una sua specializzazione al di là di qualsiasi gerarchia fra die se gerarchia fra die se Grazie a tutti.